Abbiamo parlato di privacy policy e cookie policy e abbiamo accennato adesso al concetto che è molto presente nel GDPR del consenso che è una delle basi giuridiche che vanno applicate però è spesso la più utilizzata o la prima utilizzata. Quindi l'acquisizione del consenso, tant'è che il GDPR prevede che questo consenso per quanto riguarda la privacy appunto venga gestito in una maniera opportuna. Quali consigli possiamo dare a chi ci segue per gestire l'archiviazione del consenso? Certo, allora il consenso va raccolto e archiviato in tutti i casi in cui l'utente può emettere direttamente i propri dati all'interno di un sito o un'app, ad esempio compilando un form di contatto oppure un modulo di registrazione o di iscrizione ad una newsletter e simili. Per quanto riguarda i suggerimenti, dunque va detto innanzitutto che il consenso viene di norma raccolto attraverso una o più checkbox in calce al form, infatti in alcuni casi possono servire anche due o più checkbox in riferimento ad un preciso modulo, in particolare se i dati raccolti con questo form vengono utilizzati per più finalità. Infatti è necessario un consenso specifico per ogni finalità di trattamento perseguita. Inoltre va sempre ricordato che le checkbox non devono essere preselezionate né si deve forzare in alcun modo l'utente a spuntarle tutte, questo per effetto del principio del libero consenso dell'utente. Diciamo che fin qui nulla di diverso rispetto a quanto era già necessario prima dell'entrata in vigore del GDPR. Il GDPR ha introdotto la necessità di raccogliere e archiviare una nuova inequivocabile del consenso. Quindi per essere inequivocabile il consenso deve chiaramente riportare alcune informazioni molto precise, che per intenderci sono chi ha prestato il consenso e quando. Le preferenze sono state espresse. Inoltre è necessario riportare anche un riferimento alle informative legali in vigore nel momento in cui è stato raccolto il consenso. È necessario anche essere in grado di fornire quale form è stato compilato al momento del conferimento del consenso. E quindi si tratta di un set di informazioni molto precise e dettagliate. Quindi risulta evidente che mantenere un registro conforme, per quanto obbligatorio, può rivelarsi una sfida dal punto di vista tecnico. Ed ecco perché abbiamo sviluppato una soluzione dedicata, ovvero la nostra ConsenSolution, che appunto semplifica questo processo permettendo di registrare le prove del consenso per ogni utente, oltre che a consentirci di gestirle ed esportarle anche facilmente. Per darti qualche indicazione in più, ecco, la nostra ConsenSolution, come funziona. Ogni volta che un utente compila un form, viene generata ed inviata una prova a Yubenda, contenente le informazioni che abbiamo appena detto, quindi i dati dell'interessato, un'indicazione del momento esatto in cui è stato inviato il form, una versione in bianco del form che ci consenta di dimostrare che la procedura utilizzata per la raccolta del consenso era effettivamente idonea. Inoltre ritroveremo i dati messi nel form da parte dell'interessato, i documenti legali in vigore nel momento in cui è stato effettuato il submit del form, quindi per esempio privacy e cookie policy accettate dall'utente, e le preferenze espresse. Quindi ecco, abbiamo sviluppato una soluzione che possa consentire di rispondere a questo preciso adempimento legale introdotto dal GDPR, che è proprio l'archiviazione di una prova inequivocabile del consenso. C'è anche l'informazione sulla data, se non mi ricordo male, è anche un aspetto tecnico abbastanza, forse uno dei più complessi da gestire, corretto? Esattamente, esatto, esatto, proprio così. Infatti alleghiamo sempre un riferimento preciso del momento in cui è stato effettuato l'invio del form. Anche molto spesso è difficile risalire al form che è stato compilato, infatti per questa ragione noi riportiamo una versione in bianco del form così trovato dall'utente, in modo da consentire, ecco la dimostrazione del fatto che la raccolta del consenso era avvenuta in conformità al GDPR, quindi dove è possibile dimostrare che le checkbox erano state predisposte correttamente, come dicevo prima. Ed è anche complicato allegare la versione esatta dei documenti legali nel momento in cui l'utente ha effettuato l'invio del form. Infatti abbiamo una funzionalità all'interno della ConsenSolution che consente di allegare la versione esatta delle informative così come erano quando l'utente ha effettuato il submit.